Signore dell'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho firmato quella Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona è buddista, pure l'uno che è buddista. Guarda che a me non mi converti, eh. Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che tocco la palla io la devo dar via di prima, ma faccio affare, non so, un dribbling. Vesi solo a te stesso, non fai gruppo. Ma forse è te che mi trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se vuoi bene, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo questa roba. Neanche per scherzo. Più di vent'anni in un pallone. Più di vent'anni da a vent'anni con rigore. Mi ha fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che è la vita. Se devi che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. L'uomo dietro è il campione. Allora, che vuoi che ti dica che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale, però. Ha bisogno di noi. Ha bisogno della sua famiglia. Perché siamo contenti. Di cosa? Che giochi con noi. Ancora non ci vediamo. Tutti passano la palla al baggio e te fai i gol. Guarda che sei te che devi credere in te stesso. Come se fosse la vita. Non so, potrà sembrarti un'esagerazione. Ma pure quel rigore Ha ben segnato un po' la vita.